amici di star wars buongiorno a tutti dopo star wars the acolyte ho imparato una lezione mai fare video recensioni dopo i primi episodi perché in genere c'è l'appeal la novità una serie di cose che magari ti possono conquistare e che ti possono indurre a valutazioni errate ebbene sì ieri sera è terminato star wars the acolyte con l'ottavo episodio e il mio giudizio finale di questa prima stagione perché si presume da quello che si è capito che ci sarà una seconda stagione è che è una vera e propria schifezza quando si concede troppa libertà narrativa in un franchise agli autori secondo me si rischia di andare alla deriva l'altra repubblica aveva delle aspettative enormi ovvio che ovvio che non basta faccio spoiler adesso è quindi attenzione non basta far apparire nell'ultimo programma dell'ultimo episodio dell'ultimo secondo io da di spalle per conquistare i fan è ovvio che fa piacere vedere e avere la certezza che c'è ioda che è anche è già un gran maestro jedi ma vernestra è una jedi di una credibilità prossima acqua a quanto mbappé può andare a giocare alla juve e tutti sanno che mbappé è appena è stato acquistato da credibilità zero il maestro jedi sol che all'inizio era partito bene è soltanto un frustrato pieno di dubbi pieno di paure pieno di ansie che diventa melenso diventa diventa patetico nel corso degli episodi il villain ovvero il cattivo a dire in italiano uno schizofrenico borderline che passa da momenti di dolcezza a momenti di follia no che da un certo punto di vista direte voi vabbè ma lui è un sit ci può anche stare vabbè ho capito ma un sit se andiamo a guardare i sit veri docu aveva una certa impostazione dart veller aveva una certa impostazione i momenti in cui diventano sit sono abbastanza rimangono equilibrati nel loro albero di sit cioè loro sono negativi sono fra virgolette cattivi e da lì non si spostano gesti di nobilità gesti d'amore li vedi in casi estremi quando dart veder perdona il figlio o meglio si fa perdonare dal figlio e capisce di aver sbagliato no ma è l'ultimo atto della sua esistenza lo stesso vale per kylo ren giusto che salverai salverai dalla morte certa insomma qui invece abbiamo dei personaggi che sono poco credibili e poi soprattutto signori lasciatemelo dire le due protagoniste che poi in realtà è una usata per fare due personaggi le due chiamiamo le sorelle le due gemelle ma non sono gemelle non sono sorelle probabilmente sono due create della emergenza della forza create da qualcuno che pare possa essere d'art plegius perché non so se avete visto che oltre al cameo di yoda in finale di puntata appunto dell'ultima c'è un personaggio che ha la faccia di dark plegius che si vede nel romanzo perché la stessa faccia che c'è nel romanzo dal plegius appunto che sbuca fuori con quella con la manina scheletrica e il viso diciamo rovinato no proprio come è dark plegius che è una è una specie che così dal plegius si presume sia il maestro di palpatine ma queste due cose queste due cose che di per sé sono fanservice ed è chiaro che ti fanno sussultare perché vedere yoda e vedere dal plegius ti fanno rimembrare la storia della trilogia prequel no giusto dove appunto palpatine dice a anakin skywalker ho conosciuto un sit che induceva la vita aveva era riuscito a sconfiggere la morte e poi cose assurde della vita è stato proprio il suo allievo che nel sonno l'ha ucciso no e si presume che sia lui il suo allievo però poi su questo non è stato fatto luce per cui sono tutte presunzioni ma presumo sia così ma al di là di questo al di là di questo star wars the acolyte che doveva narrare le gesta dell'alta repubblica ovvero dell'epoca quasi d'oro dei jedi ha una marea di incongruenze allucinanti chi ha di mundi nell'episodio 4 appare e stranamente si parla dei sit si lascia intendere che ci siano dei sit ma lui aveva dichiarato se lo avete visto in clone wars aveva dichiarato che non si vedevano siti da mille anni lo wars avvengono dopo i fatti dell'alta repubblica di acolyte per cui incongruenza narrativa oppure accrocchio da sceneggiatura insomma io ho trovato tanta tanta confusione tante idee buttate lì sviluppate malissimo alcuni personaggi che non hanno nessun tipo di fascino l'attendente il jedi attendente di vernestra alla faccia da pirla ma proprio da pirla avete presente la faccia da pirla la chicca è il cercatore che è un femmo uno scogliattolino mezzo marmotta e ogni tanto sapete che la disney butta fuori qualche personaggio nuovo che sono quasi tutti azzeccati perché anche abbastanza simpatico anche se poi dopo la lunga nel momento in cui appare utilizzano secondo me troppo e diventa anche un po stucchevole se non fastidioso insomma star wars the acolyte era è qualcosa che poteva essere e che non è stato io lo boccio in maniera categorica è raro che io sia così severo con star wars ma la deriva che sta prendendo come ho detto in un video di due giorni fa il franchise gestito della disney non mi sta piacendo per nulla io ho molte aspettative non ne ho parlato volutamente di andor la settimana scorsa ho molte aspettative su andor perché la prima stagione è stata ben gesì un po lenta un po lente un po macchinosa in alcuni episodi poi però verso il finale ti fa capire che che cassian andor diventerà quel personaggio fondamentale in roguano appunto insieme a ginerso recupererà i piani della morte nera che poi serviranno per sconfiggerla nella nuova speranza ma attenzione perché se la disney si inventa qualche cosa che non ha niente a che vedere che va fuori tema o che fa diventare cassian andor come il nuovo anakin skywalker secondo me rischiamo di avere un altro flop narrativo the acolyte non ha mantenuto le premesse e le promesse non le ha assolutamente mantenute perché come vi ripeto dopo i primi due episodi io ero entusiasta non mi vergogno a dirlo c'è il video ancora sul canale signori ma forse meglio se me ne stavo zitto era meglio se me ne stavo zitto aspettavo almeno il terzo quarto episodio perché già dal terzo già dal terzo cioè uno dice ma di cosa stiamo parlando ma di cosa mi fanno le streghe l'avergenza meno male che non sono venuti fuori midi-chlorian nel senso che non è tornata fuori la minata di midi-chlorian perché sapete no che quagongin chiede alla ashmi skywalker come è nato anakin e lei risponde ma non lo so mi sono ritrovata incinta cioè capite che anche qui andiamo dei livelli abbastanza quasi comici no è stato uno dei più grossi secondo me limiti della trilogia prequel dire che lei si è ritrovata incinta come la madonna praticamente non lo sanno intendere che come la madonna la madonna che ha visto una grande luce e poi ha partorito il nostro gesù cristo per cui signori veramente delusione profonda the acolyte non mi è piaciuto ovvio che se ci sarà e se potrò guarderò la seconda stagione dove dovrebbero esserci degli sviluppi perché se hanno fatto vedere che c'è l'art plegius e hanno fatto vedere che c'è ioda si presume che in questa seconda stagione prenderanno più corpo e si prenderanno più corpo e si avvicineranno nel tempo alla trilogia prequel qualcosa di buono potrebbe uscire sempre che non diano troppo spazio a queste due sorelle che sono veramente guardate io lo dico in maniera non razzista proprio in maniera molto pulita sono brutte e antipatiche cioè non mi sono piaciuti come personaggi non brutte esteticamente cioè sono anche delle belle ragazze sono brutte e antipatiche cioè anche come recitazione non mi hanno convinto sarà che lei doveva fare attrice doveva fare due parti no poste quasi però francamente cioè a me quando li vedo mi viene in mente bob marley cioè mi riecheggia una rasta man vibration yeah cioè non va bene non va bene con star wars cioè non va bene no mi sembrano due rag due rasta che sono capitate per caso in star wars no io sono un fan di bob marley sia chiaro no anzi però non c'entrano niente questo franchise per cui io non so se siete d'accordo con me chi di voi ha visto soprattutto the aqua light ripeto le aspettative erano tante erano veramente tante diciamo che l'inizio era stato abbastanza folgorante ci si aspettava tanto però poi terzo quarto quinto sesto settimo ottavo episodio sei episodi veramente noiosi pallosi senza né arte né parte dove ci hanno messo tutto dentro nel calderone e dove i personaggi che dovevano essere in qualche maniera sviluppati per farci riconoscere anche a livello della loro psicologia sono usciti veramente in maniera mesta e misera questo per me è star wars the aqua light non so a voi che la forza sia con voi se ci riuscite a voi che la forza sia con 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 voi che la